Buongiorno! Io sono qui a casa mia a Milano. Sto per uscire, come vedete è una giornata bellissima e oggi farò tantissime cose natalizie, quindi venite con me. Come prima cosa sono andata al The Dome insieme a Melissa, è questo posto bellissimo in centro a Milano ed era tutto decorato per Natale e quindi abbiamo fatto il nostro pranzetto insieme. Appena tornata a casa mi sono subito messa ad impacchettare dei regali perché poi la sera dovevo andare da Dani e Ale. Ho pensato di fare loro dei regalini, in particolare per Dani ho deciso di fare una box a tema con all'interno tutti dei piccoli regali con le sue celebrità preferite, in particolare Britney Spears. Invece ad Ale ho regalato l'accappatoio della collezione di H&M per Paco Rabanne. Tutto pronto, quindi sono uscita e appena arrivata da loro abbiamo pensato di andare a fare una piccola spesa e Dani mi ha convinta di andare in Vespa con lui. Io ho un po' paura, però ho detto di sì. Abbiamo preso tutti gli ingredienti per fare i toast a casa, che è una delle nostre specialità. E poi finalmente è arrivato il mio momento preferito, quello di aprire i regali. Già vi anticipo che purtroppo il loro per me non era arrivato in tempo. Ve lo farò vedere su IG. No! Oddio, ma è stupendo! C'è... ma che belle che sono queste. Domini, proprio così è. Non ce l'ho, non ce l'ho! Una dei quattro look. Adoro! La macchina! La macchina! Guarda, il mio colore, vedi? Questi sono i cambi di colore. Morto. Adoro! Il colore è più. Sì, è fatto. Cosa sarà? Spero che non ce l'abbia. Non sapevo neanche che esistessero! Gesù! No! Oh my god! Che bell'idea! Eh, quella è la vita! Va c***o!